La torre scade all'esordio in casa e nella maniera più dolorosa, un rigore inesistente regala il pareggio agli ospiti che ci credono di più e dieci minuti dopo firmano il 2 a 1. Zero punti in classifica dopo due gare, molto da rivedere sul piano del gioco, dell'intensità e della reazione, con la buona notizia che davanti c'è tutto un campionato per rimediare ad un avio stentato. La torre si ritrova a San Rizzo, anche se non al meglio dopo lo stop di domenica scorsa. Senza Bilea, Mister Gardini si gioca la carta Ruthians a destra, in mezzo al campo esordisce Mastromarino. Torres che parte bene, al quarto Torelli si mette in proprio e conclude dalla sinistra, Ruzzitto non si fa sorprendere e mette sopra la traversa. Al dodicesimo risponde l'Arzachena con Ungaro, che gira fuori su angolo di mulino. Ospiti ancora pericolosi al diciassettesimo, Drago è brava ad opporsi a Cassama. Torres che prova ad accelerare sulla destra e al ventesimo arriva allo spunto giusto con San Rizzo, liberato bene da Ladu, che entra in aria e conclude di potenza, centrando in pieno la traversa. Ospiti che dopo 23 minuti perdono lui, sostituito da Padovani, sarà protagonista in positivo per i suoi. Nel finale di tempo anche se a Rizzo sarà costretto a lasciare il campo per infortunio al suo posto, Russo. Si va all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa al nono, sugli sviluppi di una punizione di Molino, Congiu rischia l'autogol con pallone che colpisce il palo. Un minuto dopo arriva al vantaggio rosso-blu. Russo accrossa dalla destra e Deiulis è bravo a inserirsi tra i difensori e a siglare di testa il primo gol stagionale della Torres. E' una squadra più coraggiosa quella che si procura un'altra occasione poco dopo con Ladu, che spara sul portiere da buona posizione. La gara resta combattuta, ma con i rosso-blu che non rischiano molto. Al 31esimo, a decisione del signor Neglelli della sezione di finale Emilia, cambia l'inerzia dell'incontro. Sulla punizione dal limite di Molino, Deiulis in barriera viene colpito in pieno volto. L'arbitro ravvisa un tocco di mano che non c'è e decide per il rigore. Dal dischetto non sbaglia Molino che firma l'1-1. La Torres subisce il colpo, ma è un altro episodio da decidere il finale. Deiulis in vantaggio sul pallone, spinto perde palla. L'arbitro lascia proseguire cross in area e Padovani, lasciato colpevolmente libero di saltare, mette dentro di testa per il 2-1. Una sconfitta che pesa. In un'altra settimana di fuoco iniziano le trasferte sulla penisola e domenica si andrà a sfidare la nocerina e occorre cambiare passo.